Due persone intossicate nell'incendio di uno scantinato e un'auto completamente distrutta dalle fiamme. Sono due gli interventi che nel fine settimana hanno principalmente impegnato i vigili del fuoco del comando provinciale di via Paronese. Lo scantinato nel quale si è sviluppato l'incendio si trova in via dell'Alberaccio. Ignote le cause che hanno fatto divampare le fiamme. Due le persone che nel tentativo di spegnere il fuoco sono rimaste intossicate e per questo sono state trasportate al pronto soccorso del Santo Stefano dove le loro condizioni di salute non sono state giudicate gravi. Sul posto è intervenuta anche la polizia e una pattuglia della municipale per regolare la viabilità. Risale invece al primo pomeriggio di sabato l'incendio che ha completamente distrutto un'auto che stava percorrendo l'autostrada A11 in direzione Firenze nel tratto compreso tra i caselli di Prato Ovest e Prato Est. Il conducente ha fatto in tempo ad accostare sulla corsia di emergenza e a scendere dall'auto prima che le fiamme la avvolgessero. Il traffico ha subito rallentamenti ma non si sono formate code.